Sono James e lo sanno un po' tutti quanti, porto avanti i miei sentimenti e i sentimenti di tutti e poi la tradizione, come l'hanno portato tanti artisti, amici miei, fratelli miei, del passato e del presente. Io sono nato a Napoli, sono napoletano, forse più napoletano dei napoletani, senza offesa a nessuno, anche poi essendo figlio di americano e figlio di madre napoletana, però chiaramente io sono nato a Napoli, sono rimasto a Napoli e Napoli fa me, è Napoli, Barsi. Dunque, quando ero bambino, dai 12 anni in poi, 12, 15, ma quello che mi ricordo, tu quando nasci è tutto bello intorno a te, c'è tutto scoperto, capito? Cioè, quello che posso ricordarmi è che io sono nato a Miano, che era un quartiere molto, diciamo, molto popolare, ma eravamo come una famiglia, eravamo 10, 15 famiglie di cui, ma eravamo come una sola, capito? Cioè, io ho vissuto quella parte lì molto, molto bella, molto delicata, perché non mi facevano sentire quello che io ero, di un altro colore, in poche parole, capito? Poi è chiaro, man mano, poi la storia si allarga, no? E ho dovuto combattere questa mia neglitudine, come la vogliamo chiamare, capito? Perché poi, o voi o non voi, gli altri mi vedevano per come io ero, no? Però io ce l'ho fatta, perché, insomma, avevo abbastanza forza per, diciamo così, per sparsare fuori questa entità, capite? Che mi facevano sentire in un modo diverso. Non è cambiato niente, perché quello non cambia niente, capite? Perché anche per le nuove generazioni, se non ti conoscono e ti vedono per quello che sei, perché non sembra unire, un americano, un americano, un africano, capite? Perché questa diversità, purtroppo, c'è. E una diversità, questa fa parte del mondo, capite? È un po' tutto il mondo così, no? Cioè, ci sono molte etnie, molte razze, capite? Però non ci siamo ancora abituati, diciamo così, a non guardare, no? Perché siamo una rassa sola, capite? Dio ci ha fatto uno solo, capite? E poi siamo espatriati in tutte le, come si dice, i mondi sparsi, no? E chiaramente, chiaramente ognuno di noi è diventato gli etnicantani, giapponesi, gli africani, ma questo fa parte dei lati, non hai capito? Però non ci siamo ancora abituati al diverso. Io canto in linguaggio universale, forse perché è la mia forza, questo, capite? Perché io ho scelto, io ho scelto Napoli, io ho scelto il linguaggio napoletano, io ho scelto da dove vivano, da quello che sentivo. E tuttora, ancora oggi, prima, negli anni 70, il gruppo mio, Napoli centrale, l'hanno preso per america, lì ci hanno preso, no? Perché eravamo un ilueso, un americano, io e il batterista franco del paese. Però ci hanno preso un americano, anche cantando per due ore in napoletano, capite? Quello è stato il primo aneddoto strano, no? Però poi dopo, insomma, tutto, non dico che tutti i modi, ma tutta l'Europa, capito? Especialmente Napoli, che ha, insomma, c'è, e che un napoletano è un napoletano. Ci sono dei bravi artisti, no? Musicisti, diciamo così. Però non più di quello, perché tu per essere qualcosa, no? Per dare a te stesso qualcosa, e dare alla tua città, parliamo di Napoli, parliamo del Sud, di generale, no? Perché questo è il linguaggio del Sud, che però è un linguaggio del Sud. Però questa è la caratteristica ossica alla nostra, è una lingua, capito? Chiaro, però per fare questo, per mantenere e per uscire fuori, bisogna cercare, capito? Non bisogna solamente suonare, no? Suonare non serve a niente. Bisogna vedere tu dentro, sia del passato che del futuro, tu che cosa vedi, che cosa senti, capito? Allora, ecco che possono nascere delle entità molto forti, capito? Come sono nate, no? Se tu vai a vedere Napoli, a Napoli sia la tradizione che il nuovo, parliamoci dell'avanguardia, è poca roba, capito? È poca roba. Cioè, vai a mettere sul piedistato, saranno una ventina di persone in tutto, tra il passato e il moderno. E dunque è troppo poco, ma è troppo poco perché bisogna cercare, capito? Non è che si fa musica così, e ti esprimi per quello che tu sei, solamente perché sei suonare la moda. Non è vero. Devi cercare indietro tutto quello che ci sai, capito? Devi avere questo sentimento molto forte su quello che è stata la nostra storia, la nostra tradizione. È chiaro, no? Io ho cercato questo, no? Diciamo, Pino ha cercato questo, perché non è tutti quelli che hanno fatto una parte del successo. E sono rimasti, e rimarranno nella storia. Vengono da lì. Veniamo tutti da lì, capito? Tutto da quel passato che a noi ci faceva vivere, ci ha fatto vivere, ci ha fatto nascere, capito? Quando succede qualcosa, no? Non vuoi sostituirlo, hai capito? In tutte le parti del mondo, ogni artista non è sostituibile, perché è l'unico. Cioè, allora tu parli di Pino, si parla di Pino, parli di Pino, poi parliamo di Carosolo, poi parliamo di tutti quegli antenati, gli antenati, no? Hai capito? Che hanno avuto il successo, no? È come me, è la stessa cosa. Io non ho il successo a 360 gradi, no? Però sono i sostituibili. Cioè, capito? Sì, può nascere un altro, un altro, un altro, un altro, ma non sono quelli là. Cioè, non possono essere sostituiti, capito? Per portare qualcosa di parlare napoletana, prima cosa fanno, capito? E dunque, se nascono quelli che vogliono portare avanti il nostro sentimento, allora sì, però è un po' difficile, dai. È un po' difficile. Per quello che sta succedendo è un po' difficile, capito? Dunque, non ci sono più questi sentimenti d'amore, no? C'è una rivoluzione che non è rivoluzione, capito? Napoli è l'unica città che ha questo sapore di vita che non c'è in altri posti, capito? Non c'è in tutto il mondo, non c'è questo tipo di... ma non di cultura, capito? Questo tipo di sentimento, capito? è un po' difficile, capito?